È lunedì, sto per andare ad allenarmi e penso di aver detto tutto Adesso mi lavo la faccia con l'acqua frente nella speranza che mi svegli davvero Decisamente meglio È lunedì quindi devo anche cambiare l'Invisalign Oggi sicuramente mi farà un sacco male perché è il primo giorno Ora ciocco e via Allenarsi la mattina è buono Perché così inizia la giornata super produttiva Però la mattina è un trauma Ora mi spiegate per quale motivo la mattina a casa mia c'è sempre tutto aperto C'è il Colosseo Ed è novembre Ho scelto che cosa mettermi per la palestra Ovvero questo tuttino qui di Ocean's Apart blu che vi giuro amo tantissimo E adesso sopra ci metto una tuta perché sono freddolosa Ok sono pronta Sto andando a prendere l'autobus e sono un pochino in ritardo Come al solito Ma in quanto ritardo d'aria cronica ce la farò Ho finito l'allenamento e sono crepata Oggi ho usato il bilanciere Seguitemi i siti